Inizia il viaggio di Italia Poker Club nei teoremi del poker giocato. Parliamo di questo che è un aspetto teorico per eccellenza con il teorico per eccellenza del poker italiano, Flavio Ferrari Zumbini. Flavio, cominciamo con il chiederci se abbia senso parlare di teoremi per un gioco che non è fatto di assoluti come il poker. Ci sono varie scuole di pensiero, da un lato il poker è un gioco in cui la teoria corrisponde alla pratica, nel senso che una volta fatta un'affermazione, tutto sommato l'esecuzione di ciò che uno ha concepito è estremamente elementare, cosa devi fare? Spingere fisce al centro, sollevare le carte. Per cui è chiaro che da un punto di vista teorico tutto è fondamentale nel poker. Per altri versi ci sono giocatori molto più pratici e concreti e poco rivolti, insomma perlomeno poco orientati alla pratica, che tante volte dicono che non bisogna esagerare con queste lucubrazioni infinite perché poi il poker è fatto di persone, di situazioni, di momenti, pertanto dare delle macro categorie di pensiero lascia un po' il tempo che trova. Io sinceramente mi trovo un pochino a metà strada, nel senso che conoscere bene la teoria la reputo qualcosa di estremamente importante e poi l'intelligenza e altre capacità subentrano nel rapportarle a ciò che ci circonda. Allora, parlando di teorema in generale, nel poker ne esiste uno veramente famoso, che è il famoso, famosissimo, unico, inimitabile, teorema di Sklansky in Theory of Poker, credo già nel 78 o qualcosa del genere, fece un'affermazione abbastanza complessa ma insomma tradotta in pochissime parole, sostanzialmente il poker è un gioco di informazioni imperfette, il modo migliore di giocare una mano consisterebbe nel giocarla così come fareste qualora doveste disporre di tutte le informazioni necessarie, cosa che naturalmente è pura teoria. Da lì di teorema in un mondo dell'epoca ne sono stati partoriti tantissimi, adesso magari qualcuno lo vediamo, sinceramente io stesso non ricordo questi nomi, non sempre li ricollego alla giusta affermazione perché non hanno davvero sfondato mediaticamente, nel senso che sono spesso ragazzi molto in gamba, svegli, facevano dei post sui grossi portali internazionali o all'interno di alcuni iscritti e da lì il nome è stato attribuito a loro ma in realtà sono cose di sentire comune che conoscono in tanti. Grazie. Grazie. Grazie.